Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui e ritornati su Fortnite in compagnia di mio padre Ciao ragazzi, un po' più piano quando parti, poco poco più piano, mi hai svegliato Ho capito, è così che devo fare, ho sei anni che faccio l'intro così, ma arrivi te e cambia Ho capito, però non vedendoti, non so quando parti e parti a bomba Ah va bene, quindi parte a sorpresa Allora, innanzitutto, cioè ragazzi guardate che sta quasi a livello 60 papà, incredibile Quanto stai giocando? No, giocando poco ma vinco sempre Ah, è perché vabbè fai talmente tante kill, talmente tante vittorie che proprio i punti esperienza Ma vanno a go go Va bene, e allora adesso ci dovrai far vedere quello che hai imparato, le tue nuove doti a livello di skill proprio a Pinnacoli Pendenti Oggi papà torniamo a Pinnacoli Pendenti Mi ricordo questa Pinnacoli Pendenti, ma me ce portavi per farmi perdere, perché poi scendevano tutti lì Esatto A uno dei miei primi video ragazzi con papà su Fortnite, l'avevamo trollato portandolo a Pinnacoli facendogli credere che ci scendeva poca gente Ora lo sa, quindi non possiamo più trollarlo Però in ricordo dei vecchi tempi volevo fare questo video un po' nostalgico dove tornavamo insieme a Pinnacoli Perché ai tempi ti ci feci scendere da solo, solo soletto col tuo account dentro Pinnacoli, poverino Poverino, duravo niente Esatto, esatto Vabbè, tanto anche adesso in due non è che dureremo tantissimo, eh Cioè, scendiamoli, ne abbiamo tutte e due Facile, facile Prima di iniziare il video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi Infatti controllate sempre sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato Perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a vero di cuore Lo stai facendo? Sì, appena fatto Bravo, bravo papà, bravissimo Ok Complimenti per la scelta Mi raccomando, lasciando un bel mi piace per altri video con papà Quanti like devono lasciare per un altro video con te? 5.000 5.000 like 5.000? Eh, non lo so, provamocelo Mi raccomando, un bel mi piace Iscrivetevi al canale se ancora ne sei fatto Vai papà, mettiamo pronto E vediamo un po' cosa riusciamo a combinare a pinnacoli Ma lo stai vedendo che io ho il contorno intorno alla mia testa? C'hai la corona? Bravo Mamma mia che bravo Lo sai che oggi la andremo a perdere? Sì No, 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 no Oh, hai capito papà con la coroncina Ah, vedi, mica ce l'hai vedo io, eh Eh, no, io non ce l'ho Sì, sì, la vedo È sparito Ah, sì, adesso è sparito Vabbè, perché ogni tanto lo fa vedere e ogni tanto no Allora papà, quindi adesso te la pingo come si dice in gergo Lo vedi? Lo vedi il pingo rosso? Ok, ok, ok Però aspetta, dobbiamo andare insieme Andiamo tutti e due qui Aspetta, qua dove ho segnato, eh Ok Proprio lì devi venire Ah, bene Perché qua a Pinacolo dobbiamo stare vicini Se no moriamo immediatamente Eh, sì Lo immagino Tu stai sotto, eh Eh, sì, ma non so se riuscirò ad essere il primo, purtroppo Perché? Eh, perché comunque ci sta scendendo tanta gente E non so se riesco Oh, comunque Sai che non c'è troppa gente, in realtà? Già l'ho ammazzato di tutti Così, manco siamo scesi Già l'ho ammazzato di tutti Complimenti C'era il bidone, l'ho preso, eh Bravo Aspetta, il bidone è quello che dà lo scudo? Sì E quello mo' allora ce lo devo fare Vieni qui? Sì Dove stai? Sopra? Sì Aspetta, arrivo Aspetta che qua ce facciamo sta cassa Ce l'hai un'arma? No E cavolo, allora ce dobbiamo sbrigare Vai, sbrigati a fare sto coso Lancialo Ok, intanto ti do questo Così almeno c'hai un'arma pure tu Ok Ok, andiamo E vabbè andiamo a prendere Perché pure sotto Ah no, sai che forse sotto c'è un po' di loot Aspetta Andiamo giù, giù, giù Che di solito qua sotto ci stanno altre armi Altre ceste Ma non sento nulla E infatti niente Che tristezza Mi ha trovato niente E dobbiamo andare lì dove l'hai visto tu papà Qua all'albero All'albero E qua, sì, sì, sì Madonna che silenzio Perché? Oh c'è il cecchino papà Già preso, grazie Cecchino per te Un altro cecchino Vabbè assunto me lo prendo anche io Che vuoi? Aspetta, allora Tieni che così tu la prendi bianca Che sei più forte con le armi bianche Ok Bisogna di No, no Non ti sto prendendo in giro No, no, no Ma è vera Boh, boh Non mi sembra neanche questo palazzo lootato Quindi facciamoci Lootiamo anche questo palazzo Anche se mi ha segnato dei passi Quindi Qualcuno qui vicino lo abbiamo E boh papà Andiamo a cercare qualcuno Non lo so Però mi sembra Cioè Allora qualcuno Ecco ce n'è uno qui Stavo per dire Mi sembra abbastanza vuota Ma qualcuno ci deve essere Stanno qui sotto il campo da calcio Ah c'è un campo da calcio Sì Uh sta qua dentro E chi è questo? Papà ho già messo uno bianco Ma non vedo Aia mi ha distrutto Il compagno mi ha distrutto Sono morto Dove stai? Eh qua dentro papà Niente Ho messo il compagno one shot Ma è arrivato l'altro E mi ha ucciso Anche a me? Ecco Vedi te l'ho detto Che avremmo perso la corona Vai metti subito Preparati Fai preparati Ma ho levato la corona questa Eh te l'ho detto Che avremmo perso la corona papà Sempre lì eh Dove vedo eh Esatto Dove ti ho messo il ping Esattamente lì C'è un altro palazzo Però speriamo di essere Più fortunati Rispetto a prima Boh Mi sembra strano Ma c'è ancora Meno gente Rispetto a prima Ancora di meno Come fai a vedere Se c'è gente Eh beh li vedi Li vedi quelli che stanno Col deltaplano no? Li vedi che stanno a scende Ah sono sceso un attimino Di qua al volo Per prendermi una mitraglietta Tu papà Luda per bene quel palazzo Che io ludo quest'altro A sto punto Se c'è così poca gente Ce li dividiamo Così facciamo prima No c'è uno che ti è atterrato sotto Quindi vengo lì da te C'è uno che sta salendo Su il tuo palazzo Non mi piace sta situazione Dove sta? Sta qua sotto? Ma dove sta? Oh non riesco a capire Ah ecco sta qui fuori Eh niente Ha preso la macchina Se ne sta andando Ah ok Oh vabbè ok Quindi posso scendere? Sì no aspetta Ma questo sta qua Ma che cosa sta facendo? Vorrei uccidere questo qui Perché ci sta No non c'ho più materiali Ok 36 Ok atterrato 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 No più che altro È che stava qui intorno Lo volevo eliminare Perché dico Poi magari ci rompe pure le scatole Oh c'ho Il barilotto Ci possiamo Rifullare lo shield Come abbiamo fatto prima Con te Allora aspetta papà Vieni un attimino qui La vuoi una mia? Aspetta 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 Però c'è uno qua Ok È one shot È one shot È one shot No sono in due sono Sono in due qua dentro Ok pure il compagno L'ho praticamente spaccato Sono tutte e due one shot Ok una terra E che cavolo E muori Mannaggia la miseria Che ancora stavano lì Oh c'hanno la corona papà Pure quell'altro Oh bravi E ah qua c'è una mitraglietta viola Che io prima devo La prendi Sì No prendi la tua Io c'ho quella d'oro Però mi segna altri passi papà C'è altra gente Sì c'è altra Ce ne sono Ci sono altri due Non so se sono Ma c'è la pistola a razzi Che faccio Eh vedi tu Se la vuoi usare usala Io non la prendo di solito Vuoi che sparo in alto Eh sì vai Spara in alto Così vediamo dove sono Bravo Hai capito papà Eh infatti Stanno qua sopra Stanno No perché sono caduto Ok Uno è praticamente One shot E dove stanno Eh sopra papà No ma ha preso Ma come Dove sei Ma che cavolo Eh son caduto sotto Mi ha lanciato una marea di granate Ma non pensavo mi prendesse Ho finito pure i materiali Mannaggia la miseria Uno l'ho messo one shot No se sarà sicuramente curata Non ho neanche più Eh sì si stanno a curare Maledetti No me l'ho sbagliato No papà Ma che Mannaggia Stanno qua sopra Stanno No papà Eh ma te sei scoperto Sì Eh Non è stata una buona idea Mannaggia Ma dove stanno Ma porca miseria Ah ma se ne erano proprio andati O è un altro ancora No vabbè Mi hanno fatto il giro Era quello one shot Eh vabbè Eh vabbè Niente Mannaggia la miseria Ah presi quello da dietro Sì Eh sì erano Ma più che altro Perché avevo finito i materiali Maledizione Vai rifai preparati Vai fai preparati Ok papà Stavolta proviamo al palazzo principale Proprio Quello al centro E lì tu hai messo sempre il punto Tu hai messo Ah come so forte io A seguire il punto Nessuno proprio Un fenomeno Oddio stavolta un po' di gente Ci sta a venire Ste altre volte c'è stata meno gente Ma tu dove stai? Ah ma io non ho mai segnato il punto Ho capito ma sei sceso tardissimo Sei ancora altissimo sei No no Eh no niente Qualcuno ce l'ha rubato il palazzo Papà tocca andare sotto A non salire sul Sul tetto E qualcuno è atterrato prima di noi Dai ma è possibile che in un intero primo piano Non ci sia un'arma? Ma come cavolo l'hanno messo il loot? No vabbè ragazzi Ma di che stiamo parlando? Scusate Cioè in un intero primo piano Non c'è un Una chest Un'arma Eh vabbè niente Sono morto Ti credo In un intero primo piano Non c'è un'arma Ah Le ho trovato adesso Ok L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Mannaggia la miseria però Mi faccio i due scildoni Così non spreco lo scildino Stai attento eh papà Tranquillo figliuolo Bravo No comunque ragazzi Secondo me devono un attino Migliorare il sistema Di lutta a pinnacoli Perché mi capita troppo spesso Di lutarmi Magari un intero piano Di un palazzo E non trovare neanche mezza arma Ah ma tu stai proprio Da un'altra parte No no come Io Io so il bianco Ero Sì tu sei quello Eh vabbè niente Niente È inguidabile la macchina Con queste gomme Dentro una struttura Prova a venire lì da te Uh aspetta Ok una a terra Oddio Vai papà Pialo un po' Ok No 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 Lontana di qua Ci stanno altri passi Mannaggia regà Con sto pump A furia di fare 20 di danno Ho sprecato tutto un caricatore Per farne fuori solo uno Ah Quanto sono belli Sti nuovi fucili a pompa Io ce l'ho Scildino eh Eh allora dammelo pa Che non ce l'ho più io Ma si è imparato pure Mamma mia che bravo Eh pa Sempre qua dentro No però Oh no eccolo L'hai visto? Sì Ok bianco L'ho atterrato Ah sei tu Madonna Fatto prendo un colpo Ecco l'altro 73 Ok Fatti Mamma mia Ok ok Questo gioca a pallone qui Bravo Ottima scelta In un momento del genere Ok Altri passi papà Altri passi Stanno proprio qua fuori No no Mi ha distrutto Ok Ma come non è morto? No vabbè ragazzi Sti fucili a pompa Però fanno troppo poco danno Cioè non è possibile Regà Non è veramente possibile Io non posso continuare A lasciare la gente One shot Perché sti pump Fanno due di danno Cioè l'ho preso pieno eh Ok Ma l'altro l'avevi ucciso? Eh non lo so Vieni 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 Come non lo sai? Eh non lo so Come non lo sai? Ce n'era un altro Ce n'era Non te ne sei accorto? Io ho sparato sempre a questo Eh a tuo cavolo è andato a finire quell'altro No non erano compagni Oh vabbè regà Non ci sto a capire niente Allora tieni questo qui È uno scildino Poi ci dovrebbero essere delle tende qui Ah no c'è un medikit Ce l'ho il medikit Ce l'ho il medikit Ah no 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 ma c'è C'è un medikit Fatti direttamente il medikit papà È inutile sprecare le bende Scusami eh Non ti dice quante kill c'hai? Eh no C'è zero me sembra E allora l'altro dove cavolo è finito raga? Boh vabbè Non l'ho capito Ce n'era un altro Io stavo sparando a un altro Che è quello per cui mi stavo innervosendo Che non l'ho finito col pompa Perché gli ha tolto pochissimo Oh forse sti due Ah no aspetta Passi 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 Forse è lui Passi qui No non è lui Hai visto papà? Oh mio dio Mi ha distrutto Ma con co No non puoi Come stai? Ah papà Ma io da mo' che me ne sono andato da là Ma che mi ballano pure Ma che mi ballate Ma pure che ballate Maledetti Ma che mi ballate Maledetti Mi sparano in due Ballano pure sti maledetti Eh passano qua dentro Ma gli ho fatto pochissimo A uno e l'altro Manco l'ho toccato Eh oddio Per poco non lo uccidi Quello bianco È vero A 31 l'ho lasciato Vabbè raga Proviamo l'ultima volta E basta Dai l'ultima sarà la più favorevole Eh certo Preparati Non vedi la gente Beh oddio In realtà Sì siamo di più rispetto a prima Ma in realtà Rispetto ai canoni soliti di pinnacoli Siamo pochini No 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 Ce l'hanno rubate tutte le armi lì E pure di qua Niente Bene Qua sotto non ci stanno armi Cioè vedete raga Oh ok E là c'è un pump Ok va bene Già si può fare qualcosa E mo E mo non so Gli altri stanno tutti in altri palazzi Boh Ok ne ho atterrato uno Col cecchino Però Non so se Vabbè sì proviamo ad andare Proviamo ad andare Anche se credo che qui dentro ci sia gente Eh Sì C'è gente anche Qui Infatti mi segna passi C'è C'abbiamo uno qui eh papà Io vorrei provare a finire questo qui Che avevo atterrato Ma mi sa che l'hanno già rianimato E qua dentro c'è un po' di gente Eh papà stai attento Ah no eccoli No Eh vabbè Eh vabbè niente Gli ho rotto lo shield A terra Faccio l'altro Ok l'ho uccisi Tranquillo Tu papà che stai facendo Stai can... Eh niente Mi hanno ucciso Papà dove sei? Eh sto scappando Eh ti ho detto Stanno qua fuori Ce n'è uno qui Ce n'è mi sta venendo a finire Papà dove sei? Ma perché non vieni qui? Dove vai? Eh ma vabbè niente Ma dove sei? Ma stavamo di qua? Stavamo Non stavamo laggiù Dai proviamone a fare un'altra Proviamone Piano piano Stiamo andando peggio Quindi prima o poi Finirà Bene Vale Raga è un po' che stiamo a cerca Gente qua a Pinnacoli Ma non stiamo trovando nessuno A parte che sta arrivando un tornado Proprio qui Eh regà Dobbiamo andare da questi qua Che stanno Oddio sto laggando Questi che stanno sopra queste montagne Che tra l'altro stanno qua Dove eravamo passati pure prima Eccoli 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 stanno qua Che è successo? È poco me sbaglio il casco Vabbè vabbè Tanto da là non dovresti morire Anche se cadi Aspetta che gli andiamo Uh gli hanno atterrato il compagno Gli hanno atterrato il compagno a questo Ok E vabbè niente Non esco più a finire nessuno Bravo papà Niente raga incredibile Davanti hanno depotenziato le mitragliette Ancora mi devo regolare Su quanto danno fanno Comunque questi qua C'avevano uno a terra Quindi vuol dire che qualcuno Gli aveva Eccoli qua sotto Eccoli qua sotto Uno l'ho atterrato Papà stanno qua Uno l'ho atterrato L'altro penso Stia cercando di rianimarlo No Ok Fatto 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 Ok Allora Finalmente siamo riusciti A uscire vivi da Pinnacoli Ma in realtà banalmente Perché non abbiamo incontrato Nessuno a Pinnacoli Non lo so Abbiamo cercato di lutare Il più possibile Perché fino a mo' Ero sempre morto Perché so finito senza materiali E l'ho detto Sai che c'è Prima di pushare gli altri Faccio un bel po' di materiali Però poi non pensavo Che non ci fosse proprio Nessuno 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 Siamo in 28 Siamo in 28 Quindi in realtà Neanche così pochi Boh papà Torniamo magari a Pinnacoli Prima o poi qualcuno ci passerà Stiamo dentro a safe Eh sì Ah passi 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 Non capisco bene Mi sa sopra Dentro sto palazzo Prova a sparare un po' Con la pistolina Ok stanno tutte e due qui dentro Infatti Sì stanno qua dentro Stanno ma non riesco a capire Dove L'hai visti? No ma io non ho capito Ma Ok io ho laserato uno papà Eh ma c'aveva una Cosa La cosa rossa sopra Eh Eh certo Perché l'hai indicati E se no come fai a vederli Con la flerga Scusa Eh a che serve se no Scusa papà Io pensavo che fosse Come si dice Quello Vabbè mi hai capito Non ho capito Però vabbè No 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 Ok madonna mia Ah Ti stavo a sparare io a te Qua ci stanno le cose Eh sì Lo so Aspetta Questi inibili Sì sì Ci sta abbastanza roba Per rifullarmi Ok la safe sta qua vicino Eh Pingo dove dobbiamo andare Ah c'è sta uno lì sulla sinistra Che sta a correre Dove Eh dietro la montagna Amor vai Ah però sta sotto Sì Ok allora facciamogli il giro Da qua sopra e prendiamolo No sparano anche dietro però E sparano lì giù pure Quindi stiamo attenti Anche alle spalle Si stanno lì stanno Si stanno fightando A noi Eh no Si stanno fightando Tra di loro Ma che stanno fa Stanno tipo fermi Vabbè La tua è sparata Hanno preso il tiro Ok allora quelli la lascia Li stiamo attenti a questi qui dietro Ma Non li vedo molto svegli Questi qua Infatti quello lì è bianco No l'hanno L'hanno tirato giù Voglio tirarlo giù io Vai vai Gli ha rotto lo shield Ok Vabbè niente Me l'hanno Me l'ha rubato tutti e due Quello lì L'hai preso? Grande papà Quello che mi ha rubato le due kill Vai andiamoli a lootare Tanto dopo dovremmo fare in tempo A tornare in safe Così almeno uccidiamo anche l'altro Che mannaggia la miseria Ma hanno finito Quei due che l'avevo uccisi io Praticamente Però questo qui è andato solo a terra Quindi dovrebbe averci il compagno Qui vicino Ah e poi sta ripartì la safe Dove è andato Questo qua Dove sei nascosto? Ah no l'hai finito Si si l'ho finito Eh no vabbè Allora andiamo Qua non so C'è una mitraglietta viola Se te la vuoi prendere Poi dobbiamo correre in safe Andavanti si provo a tirare giù qualcuno eh Vai No ci hanno preso quella cosa Oddio non ho tirato giù uno davvero Eh no aspetta aspetta Ci hanno preso con la flare gun Dobbiamo andarci a curare Scendi 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 dalla macchina Papà dove stai? Eh Ma sei già sceso Ma perché sei sceso? Eh ero sceso Ero sceso Ma perché? Le ho premuto E e me l'ho sbagliato Mannaggia la mia Ma se ne sono andato No aspetta c'è ancora quello A cui ho rotto lo shield No 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 Mannaggia Eh Che ha fatto questa? Eh col potere di Spider-Man Ma stanno tutti qui quindi praticamente Io pensavo di riuscirti agli animali ma stanno tutti qua Oh ma perché? Ma perché non mi ha buildato? Perché non mi ha buildato? Oh vabbè niente Perfetto Oddio Oddio Passi qui Ma Vabbè niente Il problema è che io non vorrei fare Eh no non nemmeno io lo vedo Sta qua sotto ma Sì ma nemmeno io vorrei fare dare con lui Perché siamo io lui e quegli altri che è un team Niente vabbè lui ormai ha pushato me Vabbè Eh quell'altro me lo vogliono rubare Quindi sono Ah no Ce ne sono altri due di team Quindi questi due altri due È vero ho fatto male i conti Guarda Ammettato Mamma mia Maledetto Qui in mezzo alle strutture In mezzo alla montagna Guardali 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 Quelli col cavolo che li vado a prendere Eh vabbè Ma che c'ha questo? Come fai a prendermi di continuo? Che assurdo Mi ha ripreso Vabbè Fai pure così che la caga Poi ci metti in mannaggia Eh Ah bene mi stanno anche planando addosso Vabbè Ma che c'ha sto gioco? Ma perché pure adesso mi stava tipo Mi sta andando a scatti Eh Vabbè questi mi hanno voluto pushare fuori safe Contenti loro Contenti voi amici miei Contenti voi Contenti voi Che mi avete voluto pushare fuori safe Vabbè Ah vabbè Io questi nica Questi è giovano così Non li capirò mai ragazzi Questi è giovano così Non li capirò veramente mai Ah ma giusto un palumpa Devo chiamare Ah si chiamava un palumpa questo Un palumpa? Vabbè Eh lassù stanno No Eh no gli altri due non lo so Perché ci stanno Questo che è sopravvissuto Insieme a me Eccoli qua gli altri due Eccoli Eh volevo capire Un po' come stavano messi ma Niente Quattro quindi significa C'è un altro da solo È quello che è sopravvissuto qui prima Ah ok Nulla contro gli un palumpa Comunque ragazzi Nulla nulla no 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 il problema vero adesso è dove Cioè dove sono tutti questi Dove si sono nascosti? Secondo me stanno lì dietro al ponte Eh però Eh oh Lì stavano eh In altro posto non ci vogliono stare No ma allora il problema è che Se manca un solo team Allora posso anche essere d'accordo E sono nascosti dietro il ponte Qui il problema è che ci sono più di un team Quindi dovrebbero essere nascosti in posti diversi Sopra gli alberi Non mi sembra ci siano Vabbè prova a far cascare gli alberi Ah no a parte che adesso sta a ripartire la safe Quindi no Eccoli Eccoli L'ho detto Stanno dietro al ponte Non ci credo Pure questi con le granate Che pizza Ma dov'è quell'altra ancora Allora però Quello Starà nascosto E vuole vincere la fine No Mannaggia stavo pure peccati Quante granate c'avete Quante ne avete Scusate Ma Ma ci vuoi andare giù Mannaggia la miseria Vai giù Vai giù Per favore Grazie Perché non mi ha raccolto i tuoi scildini Oh mio dio Perché non mi ha raccolto i tuoi scildini Ah gli altri due stanno fightando Ok si sono uccisi Sì Eh dai Eh dai Ma anche se non ho fatto nulla Dai Ah Mamma mia raga Che parto E sono state le partite di oggi Eh dai Che parto Alla fine Finita con vittoria Finito con vittoria Eh Alla fine ce l'abbiamo fatta Dai almeno te sei recuperato pure la corona Mi sei laridata pure a te Boh Non lo so se muori Io ho fatto due eliminazioni eh Eh vabbè vedi Abbiamo fatto dieci kill in totale Vabbè Raga niente In un modo o nell'altro Ce l'abbiamo fatta Bene così Pinacoli è un po' così ragazzi Anche se magari Riuscite a fightare E vi beccate quelli Che hanno più materiali di voi O se vi pushano in due o tre team Se non avete materiali Non ce la potete fare Detto questo raga Mi raccomando Vi ricordo Codice creatore GG Y Tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Iscriviti al canale Se questo è fatto Lasciate un bel mi piace Vi ricordiamo 5.000 like Per un altro video con mio padre Per noi tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao Grazie Grazie